Ciao, sono Valeria Graci e questo video è per ricordarvi che martedì 11 febbraio 2014 si celebra la giornata per la promozione di un utilizzo sano e responsabile dei nuovi media perché per molti di noi internet e social network sono diventati ormai parte della nostra vita ma farne un uso sano, corretto e responsabile è importantissimo per noi e soprattutto per i nostri bambini per evitare di ritrovarsi in situazioni molto pericolose e allora mi raccomando, facciamo attenzione, facciamo rete